Buona settimana amici del canale youtube Gianluca Rossi TV e del sito www.gianlucarossi.it si apre una settimana che ci auguriamo insomma sia importante naturalmente per quanto riguarda il mercato non sarà neanche questa la settimana che ci porterà all'avvicinamento del campionato che ricordo si apre il 19 e il 20 settembre ma l'Inter inizia una giornata dopo direttamente con la Fiorentina dalla seconda giornata insieme all'Atalanta perché sono le due squadre i nerazzurri di Milano e i nero blu dell'Atalanta Bergamasca Calcio quelli che sono stati impegnati più a lungo nelle competizioni europee e quindi partiranno con il loro campionato il weekend in pratica del 25 e 26 settembre la cosa positiva comunque è che la giornata la prima giornata verrà recuperata subito entro il mese di settembre così non dovremmo avere una classifica monca dovremmo arrivare alla prima sosta per la nazionale con una classifica insomma in cui tutti hanno giocato lo stesso numero di partite per quanto riguarda le novità odierne qualcuno dice che Kolarov sia già a Milano perché ha beccato due cartellini gialli e quindi l'espulsione la sua partita con la nazionale però insomma sapete che Kolarov e Vidal sono giocatori che mi sento di dare per acquisiti già magari in questa settimana anche perché Conte freme stamattina la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile o meglio più che la squadra quel che ne resta perché insomma aspettate che ripasso un attimo allora il primo arrivare alle 9 poco poco prima delle 9 30 del mattino è stato Mattias Vessino si Mattias Vessino e però voglio dire che ha fatto Mattias Vessino ha fatto quello che hanno fatto gli altri cioè niente perché oggi era giornata di tamponi giornata insomma di acclimatamento bisognava fare i tamponi a tutti quelli che c'erano poi è arrivato Godin è arrivato Nainggolan è arrivato Esposito l'ultimo ad arrivare è stato Agumet sono arrivati tutti i dirigenti Javier Zanetti Alessandro Antonello Beppe Marotta naturalmente Antonio Conte prima delle 10 ossia l'allenatore insomma tutti si sono rivisti e ha detto ciao ci vediamo domani perché oggi è giornata naturalmente di sanificazione tra l'altro sarà già stata fatta naturalmente per Piano Gentile di tampone quindi di grandi novità non ce ne sono per quanto riguarda il campo per questo volevo toccare oggi approfittando insomma di questa situazione in cui non ci siano grandi notizie e io non sono proprio il tipo che le inventa di andare a fotografare una cosa che vedo vista sempre molto a cuore che è il rapporto tra l'Inter e la stampa rapporto burrascoso rapporto complicato mi dicono ogni volta mi scrivete la stampa ce l'ha con noi ragazzi a me sembra che francamente siccome faccio questo mestiere da 32 anni siete un po' protagonisti del film ipotesi di complotto io in 32 anni che faccio questo mestiere i campionati li ho visti vincere sempre le squadre molto forti fortissime non ho mai visto i giornalisti con tutto quello che possono dire i giornalisti tifosi tifosi giornalisti gli opinionisti oggi purtroppo c'è una tale confusione per cui quelli col contratto giornalistico originario quello della fnsi siamo rimasti in pochissimi anzi gli editori non vedono l'ora di impallinarci anche perché siamo molto costosi oggi chiunque insomma fa il giornalista fa il cronista si affaccia si apre il suo canale youtube canale youtube che come vedete sto utilizzando anch'io perché devo dire che è effettivamente una forma devo dire me ne sono accorto molto molto diretta di arrivare alla gente al di là della televisione al di là dei giornali insomma a parte che i giornali ormai al di là di chi fa le rassegne stampa e legge la notizia del giorno prima e tutti le fanno in televisione però voglio dire hanno poco significato perché diciamo che oggi con i social la notizia è molto più immediata però ripeto questo questo tarlo questa è sempre ipotesi di complotto per cui la stampa sia in grado di decidere chi vince lo scudetto secondo me è una sciocchezza tremenda anche perché francamente con il mio cume giornalistico se fosse vero io avrei già fatto vincere cinque scudetti in più all'interno sto scherzando ovviamente questo è anche un canale per chi ha il senso di humor come dico sempre chi non ce l'ha è pregato di accomodarsi su canali di altri colleghi amici che sono lì con l'ansia insomma se li seguono non li seguono personalmente ritengo di avere già troppo seguito infatti la mia scommessa col webmaster adesso e non deludetemi una volta raggiunti 30.000 followers è quella di tornare ai 20.000 perché così riesco più o meno a parlare con tutti quindi non deludetemi che già mi state andando sui 31.000 e mi fate un torto è cioè stiamo adesso un po sui 30.000 tra di noi ci sono già tanti voglio dire con i quali non riesco neanche a discutere ripeto francamente io non ho mai visto sta cosa per cui è la stampa e i giornalisti voi date veramente al giornalismo che nella sua accezione più nobile mi sembra morto devo dire da decenni e non solo in questo paese ma io ne sono assolutamente conscio è se voi pensate pensate che io mi prenda così tanto sul serio avete sbagliato a capire voi che prendete un po troppo tutto sul serio perché io non ho alcuna ambizione di condizionare i campionati non ho questo potere i campionati quando è successo perché è successo è in italia che sono stati condizionati sono stati condizionati da ben altri poteri da gente che in questo momento per il bene dello sport è radiata è radiata cioè non può fare nulla più di significativo nell'ambito dello sport ma questo è un altro discorso perché poi ci sono quelli ossessionati da calciopoli quelli che vivono ancora in un mondo di fantasia insomma io volevo dirvi che secondo me questo rapporto che ogni tanto hanno qualche interisti con la stampa è sbagliato anche perché poi facendo questo mestiere lo verifico puntualmente sia negli juventini che si lamentano ogni volta che si dice una cosa in tv o sui giornali per cui si fa una piccola critica alla società juventus siamo tutti anti juventini una volta che si fa una critica alla società milan quando berlusconi insomma ha potuto disporre della miglior stampa possibile per anni vi ricordate quando ci raccontavano che c'era c'erano i segmentini di campionati noi club più titolato al mondo poi vai a vedere altre società hanno vinto di più cioè mi pare che siate un po voi che vi fate condizionare cioè se tutti parlano male dell'inter ma chi se ne frega ma a me non a me non provoca assolutamente nessun tipo di livore o di rabbia questo se chi non è interista parla male dell'inter ma mi sembra logico anche perché forse non avete capito una cosa fondamentale da un paio d'anni a questa parte la juventus che ha già vinto e anche tanto ecco per meriti è questa volta io non ho assolutamente niente da dire e l'inter sono nate per vincere in questo periodo storico cioè partecipano al campionato per vincere tutti gli altri tutti gli altri partecipano al campionato per fare un buon campionato cioè per migliorare dal sesto al quinto posto e se riescono a coronare il sogno di arrivare ad un piazzamento in champions league ma quindi è normale che juventus e inter siano quelle più criticate per forza sono programmate per vincere sono qui per vincere ed è chiaro che se non vinci e la parola è sempre la stessa vergogna fallimento e tutto quel che ne volete quindi ragazzi io non trovo che ci sia questo rapporto con la stampa così terribile e se anche fosse e se anche fosse diciamo la verità che insomma ogni tanto l'inter ha avuto dei capi ufficio stampa in passato spero che sia finita qua anche abbastanza che erano più che altro capi ufficio anti stampa cioè quindi quando chiedevi una roba era sempre no 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 altri sono più furbi ti dicono no un pochino col col sorriso ma da qui a pensare davvero che la stampa possa condizionare il campionato di serie a ragazzi siete fuori dal mondo i campionati io li ho visti vincere all'inter di mancini quando era un grande gruppo con i migliori giocatori all'inter di murigno quindi un conto sono gli altri poteri che abbiamo vissuto che sono stati definitivamente cancellati fidatevi un conto sono invece i giornalisti perché il giornalista può dire qualsiasi scemenza della mattina alla sera io stesso ne dico un milione ma da qui a pensare che i calciatori e quindi l'ambiente a questo punto si terrorizza ed entra in campo incapace di rendere è veramente una follia mi pare che siate un po voi ragazzi che vi fate condizionare dalla stampa e che ci assegnate un potere ma ve lo dico veramente lavorando tutti i giorni che abbiamo perso no da anni da decenni quindi veramente concentratevi come si deve concentrare la società inter a fare una squadra forte forte in grado di vincere ormai lo avete capito cioè la grande scommessa è cantè che questa perlomeno magari la perderemo perché cantè non arriverà mai ma almeno mi sembra una scommessa meno da rotolarsi da ridere dalla sedia di quella di messi ovviamente per il momento sempre disposto a cambiare idea è se domani uno dei nostri va là con 200 300 400 milioni lo porta qui non ho capito niente io però mi pare che dobbiamo concentrarci più che altro su cantè e pregare dio se siete cattolici o chi volete voi naturalmente che cante possa essere una scommessa vinta un bacio lasciate perdere la stampa per quel che conta e concentratevi veramente sulla vostra squadra del cuore viva l'inter